La sfida dell'azienda oggi non è più venderci una console, non è più venderci un gioco, ma è comprare il nostro tempo. Rubarsi quegli attimi che noi abbiamo disponibili da dedicare ai loro servizi per farci usare le loro piattaforme. PlayStation 5 è un flop! Parole grosse, eh? Lo so, lo so. Sarete già tutti qui sotto a dirmi che sono un boxaro, ma perché? Perché naturalmente se di una cosa non ne parli bene, automaticamente ne stai parlando male. Ma non è così e andiamo subito a vedere il perché affermo questa cosa. Uscita nel 2020, la console di Sony ad oggi ha piazzato 50 milioni di unità, che non sono neanche poche a dirla tutta, in 4 anni comunque. Non fosse che Sony stessa ha rivisto in ribasso le vendite previste per la console nell'anno fiscale attuale, aggiungendo che tra l'altro per tutto il 2024, almeno da parte loro, non sono previste uscite di grandissimo rilievo. Quindi se ne parla nel 2025 per giochi, diciamo, di grosso profilo, tripla A e via dicendo. Ed ha inoltre dichiarato che la PlayStation 5 è arrivata nel suo ciclo vitale conclusivo. Il che? Cosa vuol dire? Che stanno già pensando a PlayStation 6. Ora ragazzi, mi dispiace deludere qualcuno, ma quando un produttore dice che la sua console è a fine ciclo vitale, vuol dire una sola cosa. E cioè che il suo prodotto ha saturato il mercato. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che ha venduto tutto quello che loro pensano che abbia potuto vendere. E non pensano naturalmente che queste stime potranno invertirsi e crescere negli anni a venire. Quindi potranno andare solo calando. E anche qui mi dispiace infrangere i sogni di qualcuno, ma sappiate che quando un'azienda fa uscire una nuova console non lo fa perché ha una visione avanguardistica del futuro e vuole dare a noi videogiocatori una grafica più bella, un prodotto migliore e potenzialità infinite. Lo fa perché deve alzare l'asticella tecnologica perché è quello il suo business. E cioè la console di adesso non vende più. Come facciamo a venderne un'altra? Ne facciamo uscire una uguale con un altro nome? Assolutamente no. Bisogna chiaramente puntare su un comparto tecnologico superiore in modo che i giochi che girano su questa console nuova non possano girare su quella vecchia e quindi la gente senta il bisogno di passare a quella successiva per avere i nuovi giochi con la grafica più bella e via dicendo. Fatemi fare una piccola premessa. Per me questa generazione di console è stata la più inutile che si sia mai vista. Ma perché affermo questa cosa? Un minuto che ci arriviamo. Lo stimolo di fare questo video in realtà è venuto fuori diciamo dalla volontà di rispondere a un commento che mi è stato fatto sotto un video precedente, quello dove parlavo di Xbox e del fatto che stesse perdendo esclusive. Come tanti messaggi che mi scrivete sotto i miei video è stato un messaggio interessante, è stato un messaggio articolato e quindi ho deciso di farci appositamente un video perché dare una risposta a tutti questi punti che questo ragazzo affermava di sotto mi sembrava un po' troppo riduttivo comunque avere scritto un papiro. E essendo dei discorsi che fondamentalmente credo che abbiano anche senso ad essere discussi in maniera un pochino più ampia perché magari sono idee che hanno molte persone ho deciso appunto di registrare questa cosa che state avendo in questo momento. Quindi grazie a chi mi ha mandato il messaggio adesso lo andiamo a leggere assieme parte per parte e andiamo più o meno poi a rispondere un pezzettino alla volta. Naturalmente queste sono le mie opinioni quindi se non siete d'accordo siete liberissimi di non pensare come me ovviamente ma soprattutto di lasciarmi ulteriori commenti di sotto perché così magari mi fate cambiare idea o ne parliamo insieme. Quello che dico io non è legge e mi fa piacere discuterne con voi. Allora il messaggio cominciava con intanto sul discorso esclusive che almeno su playstation sono molte e di peso questo parte ce la ricordiamo adesso ce la teniamo da parte per dopo Xbox non perde esclusive, Xbox non ha proprio esclusive in quanto ogni gioco che esce su Xbox esce anche contemporaneamente su PC questo perché Microsoft non vuole penalizzare Windows questo si riflette anche sulle console vendute e regolarmente Sony vende più del doppio di Microsoft anche per questo. Ecco qui mi aggancio direttamente al discorso della generazione di console più inutili di sempre allora a parte il fatto che molte esclusive playstation 5 o playstation 4 anche stanno uscendo anche loro su PC perché è un mercato malato lo dicevo anche nell'altro video se non erro e di conseguenza cosa succede? Succede che vengono fatti dei giochi che costano tantissimo e non basta venderne per quanto se ne vendano tanti solo sulle console di conseguenza Sony cosa fa? Deve andare di forza anche su PC per cercare di recuperare le spese dei giochi che pur vendendone milioni non coprono evidentemente quello che è stato speso però tra l'altro qui c'è un altro problema ancora ci sono un sacco di cross platform cioè vediamo ad esempio God of War Ragnarok che è un gioco bellissimo ma è uscito anche su PS4 non è uscito solo su PS5 stessa cosa per Horizon il nuovo Horizon è uscito da una parte e dall'altra questo perché? Perché ci sono più PS4 che PS5 e se noi questi titoli li andiamo a analizzare ragazzi diciamoci la verità ma se non li mettete di fianco lo riuscite a vedere la differenza? naturalmente sì adesso mi verrete a dire che certo la versione PS5 è molto migliore è molto più bella guarda che effetti ho capito ma il discorso è che quando tu passavi da PS2 a PS3 vedevi il cambio generazionale quando passavi da PS3 a PS4 vedevi il cambio generazionale adesso ci trovi in una situazione in cui se tu mi prendi God of War Ragnarok lo prendi lo prendi su PS4 e lo metti su PS5 li guardi prima uno e poi l'altro fai fatica a vedere queste incredibili differenze forse se li metti di fianco ora sicuramente arriverete qua sotto in mucchio a dirmi che non è vero che sto dicendo delle cazzate ragazzi mi dispiace per conto mio è così secondo me quando tu devi andarti a prendere una lente di ingranimento mettere due giochi uno a fianco all'altro per renderti conto che c'è una differenza allora lì c'è un problema perché la differenza effettivamente non c'è poi vediamole queste esclusive di peso ragazzi vediamole perché se andiamo su allora io non ho trovato niente di meglio adesso vado a vedere scusate eh su vg chart e mi sono andato a prendere le vendite di playstation 5 le vendite del software di playstation 5 d'accordo andiamo a vedere queste esclusive io qua c'ho la lista dei 50 titoli più venduti su playstation 5 da quando è uscita d'accordo allora abbiamo al primo posto marvel spider man 2 che ha venduto ben 10 milioni di pezzi benissimo su 50 milioni di console direi che ha venduto molto bene ok un quinto delle persone che ha playstation 5 ha preso spider man 2 benissimo poi il secondo titolo che andiamo a trovare in questa classifica dei giochi più venduti su playstation 5 è elden ring passiamo da 10 milioni a 4 milioni arrotondiamo in eccesso ok questo è il secondo gioco ed è un gioco multipiattaforma andiamo al terzo posto al terzo posto abbiamo di nuovo un gioco che in questo caso è uscito solo su playstation però è un gioco square enix e non è una vera e propria esclusiva nel senso che probabilmente è uscito solo su playstation 5 perché square enix non ha ritenuto fruttuoso il fatto di farci una conversione visto che comunque ne ha venduti appena 3 milioni 3 milioni per un gioco che ha costato una fucilata e che ha detta di square stessa è stata una delusione perché si aspettavano di vendere molto di più scendiamo andiamo al quarto posto e abbiamo un'altra esclusiva playstation 5 un'esclusiva da 2 milioni e 700 mila pezzi circa e parliamo di Ratchet & Clack Rift Apart ok questa è un'esclusiva Sony un'esclusiva Sony un gioco sviluppato da un team interno di Sony ed è solo su playstation 5 ed ha venduto appena arrotondando sempre in eccesso 3 milioni di unità poi andiamo sotto e abbiamo Demon's Souls poi andiamo sotto e abbiamo Returnal e sono anche queste esclusive però hanno venduto di nuovo nel caso di Demon's Souls poco più di 2 milioni di pezzi e poi Returnal che è al sesto posto comunque della classifica un milione e poco più poi scendiamo a un altro titolo esclusivo perché è una raccolta di giochi Sony è Uncharted Legacy Tiff Collection e ha venduto 570 mila unità devo continuare? andiamo sotto c'è Dead Stranding che ha venduto 300 mila unità e questi ragazzi non sono giochi che costano poco da sviluppare cioè non stiamo parlando di Animal Crossing ok? non stiamo parlando di giochini piccolini i giochini indie stiamo parlando di giochi che lo sviluppo costa milioni e milioni di dollari andiamo a vedere adesso le esclusive di Nintendo non voglio mettere a confronto una cosa e l'altra cioè non mi interessa niente non è che stiamo facendo una gara adesso chi è che vende di più non è questo lo scopo spero che voi lo capiate lo scopo è cercare di pesare cosa vuol dire un'esclusiva di peso come appunto si diceva in questo messaggio innanzitutto i giochi per Nintendo Switch abbiamo sempre i primi 50 sempre da VG Chart vi lascio se volete sotto il link così vi andate a guardare se trovate dei siti dove ci sono delle elenchi di vendite più affidabili per l'amore di Dio segnalatemi ci vado a vedere comunque non stiamo qua a fare le pulci diciamocela tutta stiamo facendo semplicemente un ragionamento a spanne poi non mi frega se il gioco ha venduto 500.000 pezzi in più 500.000 pezzi in meno è semplicemente una stima Mario Kart 8 Deluxe stiamo parlando di un gioco che era uscito su Nintendo Wii U era stato un flopone perché? perché Wii U è stata una console che ha venduto veramente pochissimo adesso non ricordo però è veramente stato forse uno tra i più grandi flop di Nintendo in assoluto questo anche per rispondere a quelli che magari negli altri video dicono ma Nintendo vende sempre tanto perché è Nintendo no Nintendo non vende tanto perché è Nintendo perché come vedete ci sono appunto dei casi clamorosi in cui Nintendo fa una console e la console non vende quindi non è che Switch vende tanto perché è Nintendo Switch vende tanto perché ci avrà i suoi meriti però ripeto non stiamo qua non stiamo facendo delle comparative adesso non stiamo facendo delle gare non mi interessa questa cosa qui sto semplicemente dicendo il problema delle esclusive su queste piattaforme Mario Kart 8 Deluxe ha venduto 60 milioni di unità e più 60 milioni e più di unità poi al secondo posto abbiamo Animal Crossing di nuovo un gioco che sarà costato 4 patatine fritte e un panino al salame ha muffito e ha venduto 44,70 milioni di unità poi ci abbiamo Super Smash Bros al terzo posto e stiamo a 33 milioni e spacca poi abbiamo Legend of Zelda Breath of the Wild e abbiamo 31 milioni e rotti poi abbiamo Mario Party di nuovo un gioco che veramente lo sviluppo costerà come il non lo so il cestino del pranzo di quelli che hanno sviluppato il remake di The Last of Us e quanto ne abbiamo venduti di Odyssey abbiamo venduto 27 milioni e rotti di Odyssey subito sotto abbiamo sempre un altro gioco Nintendo Pokémon Sword e Pokémon Shield che sono due giochi vabbè discutibilissimi comunque 26 milioni e rotti al di sotto abbiamo 24 milioni e qualcosa di Pokémon Scarlatto e Violetto poi c'è un altro Mario Party con 20 milioni poi abbiamo altri 20 milioni per l'appena uscito The Legend of Zelda Tears of the Kingdom che è uscito sotto Natale quindi voglio dire ok o no scusatemi quando è uscito ottobre vabbè è uscito che comunque è poco abbiamo un altro ah sì Super Mario Bros U Deluxe cioè di nuovo torniamo a un remake un porting chiamiamolo così e siamo a 17 milioni di unità poi posso posso scendere ancora andiamo a Ring Fit Adventure bellissimo io ce l'ho però una cagatina da 4 soldi anche quella quanti ne abbiamo venduti 15 milioni e spacca poi sotto c'è addirittura Let's Go Pikachu un'altra porcheria ragazzi cioè roba da 4 soldi non voglio discutere sulla bontà del gioco che è un giochino per bambini però ragazzi 15 milioni di unità per Let's Go Pikachu capite cioè questo gioco ha venduto di più del titolo più venduto su Playstation 5 esclusivo e poi scendiamo 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 per 50 posizioni sono tutti giochi Nintendo quasi per trovare il primo titolo non Nintendo in questa classifica vi dico a che posizione dobbiamo andare dobbiamo andare alla posizione numero 24 il primo gioco non non sviluppato da Nintendo nella top 50 dei giochi più venduti su Nintendo Switch è Monster Hunter Rise della Capcom con 7 virgola spacca milioni di unità ok ok e poi il prossimo gioco non Nintendo in questa fantastica classifica al 34esimo posto di Konami Momotaro Densetsu che quindi suppongo non sia neanche uscito in Europa questa roba qua che ha venduto comunque 4 milioni di unità e praticamente adesso non ho voglia di mettermi qui a contare perché non voglio farvi perdere troppo un minutaggio qui nel video però diciamo che su 50 titoli più o meno 5 non sono di Nintendo ecco qui parliamo di esclusive di peso qui parliamo di esclusive di peso non in 4 titoli Sony in tutta la libreria che comunque se li mettete tutti insieme non hanno venduto quanto il quarto gioco in classifica per Nintendo Switch e Sony se ne guarda bene da dire queste cose quando va a fare i comunicati perché poi sa che i comunicati anche interessano fondamentalmente interessano agli investitori che magari non sono neanche tanto sgamati da capirci più di tanto e ai fanboy che vengono a dirti oh però guarda quando ha venduto perché boh non lo so gli interessano le cifre invece che giocare però allora parliamo di God of War Ragnarok che è uscito sia su Playstation 5 che su Playstation 4 e comunque in entrambe le versioni cioè accorpando i titoli sia venduti su una che sull'altra piattaforma ha venduto 15 milioni di unità e non ci è dato sapere quanti ne abbia venduti da una parte e quanti ne abbia venduti dall'altra però suppongo su Playstation 5 in realtà molto pochi perché come abbiamo visto nella classifica dei 50 titoli più venduti su Playstation 5 non c'è e a dirla tutta non sono riuscito a trovarlo neanche nella classifica dei più venduti per Playstation 4 che al primo posto ha sempre il suo fantastico Marvel Spider-Man che in questo caso aveva venduto 22 milioni erotti quindi il doppio del suo seguito su Playstation 5 e poi al secondo posto abbiamo God of War quello del 2018 che ha venduto 21 milioni erotti e poi abbiamo al terzo posto GTA 5 che è un multiplataforma e che non si sa quanto abbia venduto non c'è la la cifra non è stata dichiarata evidentemente ecco in tutta questa roba poi vi lascio il link anche di questo io non ho trovato Ragnarok quindi si suppone che non capisco non riesco a capire o non sono stati introdotti perché appunto non è stato dichiarato quanti di questi 15 milioni venduti totali sono stati venduti da una parte o dall'altra o non saprei spiegarmelo se qualcuno me lo sa dire ben venga scrivetelo nei commenti continuando con la risposta e andiamo a vedere sul fatto del Xbox esclusive non ne ha allora esclusive Xbox ce ne ha magari non interessano a voi però ci sono i vari Halo ci sono Starfield che è stato criticato tantissimo da tutti per l'amore di Dio io ripeto non sono giochi che mi interessano non ci gioco sono giochi troppo lunghi per me però io sono sicuro che domani diventasse multipiettaforma tutti quelli tanti di quelli che lo stavano criticando e che non l'hanno giocato magari se lo andrebbero a recuperare io ne sono certo abbiamo Forza che comunque è un'esclusiva anche quella di peso e in ogni caso anche il fatto che venda poche console Microsoft abbiamo capito che a questo punto noi non dobbiamo neanche più pensare Xbox come una piattaforma come una scatoletta da mettere sotto la televisione ma come un servizio cioè ormai è chiaro che Microsoft è questa cosa qui che sta facendo da molto molto tempo non gli interessa più venderti la scatola ti vuole vendere il servizio e infatti di Game Pass ne hanno venduti a milioni e per ricollegarmi al video della scorsa volta è proprio questo il fatto che a Microsoft non gli interessa nemmeno più tanto il fatto di queste esclusive per il momento tenersele perché sta cercando di fidelizzare le persone di conseguenza cosa succede è molto furbo da parte sua a dire ok le mie esclusive le porto anche su Playstation le mie esclusive le porto anche su Nintendo Switch perché così magari fai innamorare la gente di alcuni titoli e quando un domani ci saranno soltanto servizi streaming allora lì sì che le esclusive avranno senso perché tra il mi faccio l'abbonamento Playstation ah mi faccio l'abbonamento Xbox magari se tu su Playstation ti sei giocato un'esclusiva che ti è piaciuta che però è di Microsoft la volta dopo invece di prenderti l'abbonamento di Sony ti prendi l'abbonamento Game Pass poi proseguendo sempre con il messaggio diciamo leggiamo le esclusive Nintendo invece sono sempre le stesse dai tempi del Super Nintendo migliorate graficamente ma sempre uguali allora su questo video poi non mi voglio dilungare adesso su questa cosa delle esclusive Nintendo magari ci facciamo un video a parte un'altra volta scrivetemi nei commenti se vi interessa che lo faccio però questa cosa delle esclusive Nintendo sono sempre le stesse Nintendo fa sempre i soliti giochi ragazzi allora sono delle fesserie sono delle fesserie che io non ne posso più di sentirle le sento da tutta la vita è da quando c'è il Super Nintendo che la gente dice Nintendo fa sempre i soliti giochi ma non è vero allora parliamo di Super Mario Super Mario se noi andiamo a vedere esattamente la serie principale di Super Mario quanti giochi sono usciti sono usciti una decina di giochi arrotondiamo di Super Mario diciamo serie classica ok escludiamo i spin off Mario Kart Mario Baseball Mario questo Mario quell'altro i platform di Super Mario serie principale non parlando di console portatili cioè quella è tutta un'altra cosa accorpiamo però i vari Super Mario e Mario 64 quindi quelli 2D e quelli 3D sono usciti circa una decina di capitoli e sono usciti in 40 anni fatevi voi il conto 10 giochi spalmati per 40 anni ditemi voi Nintendo fa sempre la stessa roba parliamo di Zelda stesso discorso quanti sono usciti di Zelda ora non mi sono messo a contarli ma non è che siamo tanto lontani ragazzi e comunque da uno Zelda all'altro di solito passano 3 4 5 anni Metroid Metroid sono usciti 5 giochi della serie canonica escludiamo di nuovo anche lì se ci sono dei remake se ci sono dei porting delle cose così parliamo di 5 giochi nel giro di 40 anni parliamo di Metroid Prime di cui comunque sono usciti 3 giochi in circa 15 anni Star Fox boh non pervenuto F-Zero boh non pervenuto Pilot Wing boh non pervenuto cioè ci sono un sacco di giochi di Nintendo che sono dei brand che vendono tantissimo ma che vengono risuscitati una volta ogni tanto ora Nintendo questi giochi li sviluppa da sola e di conseguenza è chiaro che ci metta del tempo quindi sì invece magari di far uscire nuove IP che comunque escono perché ad esempio anche se è una IP ormai vecchia è uscito con il Gamecube non è un gioco che proviene dal Nintendo dal Super Nintendo Pikmin è un'IP nuova Animal Crossing anche è un'IP nuova ormai è vecchia anche quella ma sono tutte IP che sono state vendutissime e quindi Nintendo cerca di portarla avanti e quindi cosa succede ne fa uscire dei seguiti ogni tot anni però cioè non è Call of Duty che ne esce uno all'anno non è FIFA che ne esce uno all'anno ne escono con veramente di stacco di 5 anni di 3 anni di 4 anni Mario Kart ripetiamolo cioè quando è uscito Mario Kart togliendo il fatto che si tratta di un porting è un gioco che è uscito all'inizio di Nintendo Switch e non è sono usciti i 58 seguiti perché tanto per l'arco di 7 anni di vita che sta avendo il Nintendo Switch ha continuato a vendere mentre invece se andiamo a vedere queste fantastiche esclusive di peso di cui dicevamo prima vendono tanto all'inizio ma poi improvvisamente c'è un crollo di vendite cioè un gioco come God of War bellissimo meraviglioso per quanto sia stato sviluppato con grandissima arte e spendendo un sacco di soldi ha un picco di vendite appena esce e poi improvvisamente un calo le esclusive di Nintendo invece vediamo che praticamente hanno un ciclo vitale lunghissimo cioè Mario Kart per arrivare a 60 milioni di pezzi non è che le ha vendute tutti in un mese le ha vendute nell'arco di 7 anni 7 anni in cui sicuramente comunque è stato un gioco supportato con molte piste che sono uscite in continuazione ma se andiamo a vedere anche altri giochi vecchi delle serie tipo i vari Mario Kart su Nintendo DS anche quelli hanno venduto molti milioni di copie e durante tutto il ciclo vitale della console e non soltanto al lancio poi questa cosa delle esclusive Nintendo e poi qua davvero mi fermo e ne parliamo in un altro discorso i giochi di Nintendo è vero che Super Mario ok ci sono 10 Super Mario usciti nell'arco di 40 anni ma non è cioè Super Mario è sempre diverso chi non se ne rende conto vuol dire che non ci ha mai giocato o comunque cioè non ha conoscenza di questo argomento perché Super Mario si reinventa ogni volta ora siamo d'accordo chiaramente rimane sempre un platform però se voi mi andate a prendere lasciamo perdere la differenza che ci può essere tra un Super Mario 2D e un Super Mario 3D che è ovvia ok è ovvia però andiamo a prendere per esempio il primo Super Mario poi il secondo che vabbè in realtà non è neanche Super Mario Bros 2 Doki Doki Panic ma questo è un altro discorso ancora se volete dentro i miei short ci trovate pillole sulla storia di videogiochi e se non sapete la storia la trovate lì dentro c'è Super Mario Bros 3 che è di nuovo molto diverso ovviamente dal Super Mario 2 e dal Super Mario 1 i giochi 3D cioè Mario 64 è d'accordo che è stato seminale ha piantato praticamente la struttura dei videogiochi di tutti i giochi platform 3D moderni però se noi andiamo esaminare un Super Mario Sunshine è ancora diverso da un Super Mario Galaxy che è completamente un'altra cosa e poi andiamo a prendere un Mario Odyssey che sì abbiamo sempre Mario che salta sulle tartarughe ma ha introdotto altre meccaniche ancora quindi adesso se quello prima era tutto incentrato su questa cosa su questi ideali di pianeti sferici della gravità che ti attraeva verso il centro del pianeta quindi con tutte queste piattaforme sferiche il seguito invece è stato pensato in modo completamente differente con questa cosa del cappello e tutte le meccaniche legate al cappello quindi il cappello ci salti sopra come se fosse una piattaforma cioè ragazzi è sempre diverso è inutile è inutile stare qua a perdere tempo a spiegare queste cose poi continuiamo definire poi il capolinea PlayStation 5 che è uscita durante la pandemia di fine 2020 è comunque riuscita a vendere 50 milioni di pezzi mi sembra un pochino azzardato visto che Xbox ha venduto la metà e Nintendo con la sua console ibrida sul mercato dal 2017 ha venduto oltre 120 milioni di pezzi adesso siamo a 140 ma questi sono numeri che faceva la solo al vecchio Nintendo DS oggi oltre al gigantesco mercato dei giochi smartphone si stanno affermando nuovi dispositivi per giocare come Android PC Steam Deck Roghelli bla 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 e visori VR tipo metaquesta ok allora ok parto di nuovo così finiamo sto discorso di Nintendo è vero è vero io sono stato il primo a sollevare queste cose quando la gente gridava il miracolo che Nintendo vendesse tutti questi Nintendo Switch sì ho capito però Nintendo Switch è andata a prendersi il mercato di due piattaforme perché prima effettivamente questi numeri Nintendo li faceva solo con le piattaforme portatili quindi non è che sia per l'amore di Dio poteva essere un flop Nintendo Switch però devo dire che effettivamente invece si è presa al mercato di due console essere spartito che comunque sono ottime vendite però il discorso è che Nintendo ha una filosofia ormai che è di andare per la sua strada quindi cosa doveva fare doveva fare un'altra piattaforma portatile più potente di Nintendo 3DS e quindi cosa doveva venire fuori doveva venire fuori più o meno un Nintendo Switch e quindi quella doveva tenerla come piattaforma portatile e poi cosa fare fare un'altra piattaforma fissa che andava a scontrarsi a questo punto perché non poteva avere certamente la stessa potenza di Nintendo Switch doveva essere più potente il che voleva dire che doveva essere o un poco più potente di Nintendo Switch o potente tanto quanto Xbox e PlayStation 5 e questa abbiamo capito che Nintendo non è una cosa che è disposta a fare almeno non oggi anche perché come abbiamo detto Nintendo sviluppa i suoi giochi praticamente da sola e quindi ha difficoltà a sviluppare titoli di un certo spessore sia per una piattaforma che per l'altra quindi quando si trattava di sviluppare per un Gamecube e per un Gameboy Advance erano due sforzi molto diversi però adesso i sforzi sarebbero stati molto simili quindi non aveva senso la cosa più sensata era proporre una sola piattaforma che andasse bene sia per essere giocata a casa sia per essere giocata in mobilità e di conseguenza abbiamo avuto Nintendo Switch e la faccenda di PlayStation 5 al capolinea mi dispiace come dicevo all'inizio non l'ho detta io l'ha detta il presidente di Sony cioè ha detto che la console è entrata ufficialmente nel suo ultimo arco di vita le vendite della piattaforma sono in ribasso e questo vuol dire che la console è a capolinea di chi è colpa? è colpa della pandemia? non lo so perché questo problema della pandemia comunque ce l'hanno avuto tutti non è che ce l'ha avuto soltanto Sony e comunque quando la pandemia è finita nessuno ha impedito a Nintendo di ricominciare a vendere piattaforme o a altri produttori di fare altre cose come appunto Steam Deck Rugallari e via dicendo e perché PlayStation non si è ripresa il suo mercato ed è andata a vendere almeno tanto quanto la PlayStation 4 o più o meno cifre di quel genere lì che comunque stiamo sempre sopra le 100 milioni di unità cioè la pandemia probabilmente ha avuto la sua influenza però alla fine quando la console se era così desiderata ha tornato ad essere disponibile avrebbero dovuto venderne recupereranno quando ci sarà un calo di prezzo perché probabilmente adesso a certo punto ci dovrà essere anche sto calo di prezzo se stiamo parlando di una console che è arrivata alla fine del suo ciclo vitale probabilmente sì probabilmente sì però questo comunque non toglie il fatto che stiamo parlando di un calo di prezzo di una piattaforma che è già praticamente stata data morta dai suoi stessi produttori che quest'anno non faranno uscire giochi importanti hanno fatto uscire una piattaforma come playstation war 2 che è una figata pazzesca e non ci stanno sviluppando sopra niente insomma ragazzi io non lo so ma a me questi non è che mi sembrano proprio dati di una piattaforma che è in grassa salute ma ripeto a me non me ne frega niente cioè non sono qui a dirvi niente playstation 5 ha venduto poco non mi interessa è semplicemente una valutazione della situazione nata appunto da questo messaggio che mi è arrivato sotto il video precedente dove si parlava di esclusive dove si parlava di dove andrà a finire questo mercato e qui ci avviamo finalmente alla conclusione di questo video che non so quanto è durato ma penso veramente troppo sarà sempre più difficile ragazzi ritagliarsi un posto per queste console sotto la nostra televisione perché se una volta il mercato era combattuto tra varie piattaforme di videogiochi adesso il business non è più quello perché noi abbiamo 24 ore al giorno per vivere e questo tempo ce lo dobbiamo dividere tra la nostra vita tra il lavoro tra la famiglia e tra quello che ci piace fare e quindi giocare leggere un libro vedersi una serie tv guardare un film e se queste cose una volta le potevamo fare con un certo tipo di parsimonia e non c'era tutta la scelta che c'è oggi adesso è veramente troppo difficile riuscire a dedicare quelle 3-4 ore al giorno che ci rimangono in cui non dobbiamo lavorare non dobbiamo dormire per fare le cose che ci piacciono e le cose che ci piacciono cosa sono? appunto leggere un libro videogiocare vedere un film vedere una serie tv abbiamo troppa scelta la sfida dell'azienda oggi non è più venderci una console non è più venderci un gioco ma è comprare il nostro tempo rubarsi quegli attimi che noi abbiamo disponibili da dedicare ai loro servizi per farci usare le loro piattaforme e quindi voi oggi domani cosa farete? quando avrete finito di lavorare vedrete un film? vedrete una serie tv? leggerete un libro? guarderete tiktok? o videogiocherete a qualcosa? bene ragazzi questo è tutto anche per questo video io spero che vi sia piaciuto fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo con me se non siete d'accordo con me perché like al video iscrivetevi al canale questo è Greta questo era Greta Pensiero noi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti